Ciao, sono Luca di Mystery Gadget, buongiorno, benvenuti alla scoperta di una nuova famiglia di prodotti appena lanciata, Mi 10T. Ecco dunque il nuovo Xiaomi Mi 10T, in questo caso nella versione Pro, che si riconosce per la fotocamera da 108 megapixel sul retro, mentre la versione non Pro ha un sensore da 64 megapixel, grand'angolo da 13, poi macro e profondità, ma insomma sono tutti dettagli che tutto sommato potete reperire in qualunque momento anche in rete. Fotocamera frontale da 20 megapixel con un'ottima qualità bisogna dire e un display che viene chiamato True Color con Adaptive Sync, ovvero con, pensate, una frequenza di aggiornamento da 144 Hz, che vuol dire che le animazioni, insomma tutto quello che fate, ma soprattutto ovviamente più che in questa situazione, le immagini che voi vedrete sul vostro display saranno sempre di qualità elevatissima. Per quanto riguarda la struttura del telefono, sensore delle impronte digitali sul lato, controllo del volume o volume rocker sempre vicino al pulsante d'accensione, lato pulito, sulla parte inferiore invece vedete che c'è il cassettino per le SIM, uno dei due altoparlanti, e anche il connettore USB Type-C. Nella parte superiore, sensore a infrarossi, altro microfono, non c'è il jack per le cuffie che è stato a lungo, diciamo, un cavallo di battaglia per Xiaomi. Non voglio tanto tediarvi con i 6 o gli 8 giga di RAM, 128 o 256 giga di memoria interna, 650 giga, 650 giga, sì, Adreno 650 di GPU, ma più che altro concentrarmi su quello che questo telefono sa fare. Intanto con il nuovo sistema operativo, quindi MIUI 12, c'è questo nuovo modo di gestirlo, per cui con uno swipe da questo lato andate ai comandi diretti, quindi a una sorta di control center, da questa parte invece accedete alle applicazioni. Quindi vedete due posizioni diverse, un po' come succede con Apple. Poi, per quanto riguarda il menu, come al solito, c'è una profondità notevole da parte di Xiaomi che vi dà tantissime possibilità di personalizzazione. L'unica che io non ho trovato è quella per togliere i pulsanti di navigazione in basso. Ho cercato e ricercato, ma può anche essere che io sbagli. Potete scegliere di avere o meno il cassetto, potete scegliere di avere Google Discover oppure no. Quindi davvero avete un pieno controllo di ciò che potete fare con il telefono, gestione degli sfondi, quelli dei temi, il controllo della sicurezza attraverso l'uso di un'impronta digitale oppure l'uso anche dello sblocco con il volto, una serie di controlli aggiuntivi al telefono che sono disponibili anche e soprattutto con il controllo del display. Vedete qui avete la frequenza di aggiornamento, no aspettate che ho sbagliato il botton, frequenza di aggiornamento potete scegliere tra 60, 90 e 144 Hz, ma in alcuni casi il telefono fa abbassare la frequenza di aggiornamento per evitare anche consumi inutili. Quando guardate la posta elettronica non vi serve tutto questo. C'è una modalità scura che potete attivare programmata oppure stabilmente, una modalità di lettura, un controllo del livello ovviamente di luminosità. Quindi questi sono comandi che danno molta profondità a questo prodotto e che risultano secondo me molto interessanti. Per quanto riguarda le funzioni speciali avete la possibilità di mettere il turbo per i videogiochi, strumenti video per cui potete gestire funzionalità speciali, tra l'altro a livello video nella riproduzione colma anche eventuali frames mancanti dando una visualizzazione migliore a tutti i vostri prodotti. C'è il secondo spazio che è una caratteristica tipica di Xiaomi, quindi insomma tutto quello che avete apprezzato fino ad oggi in Xiaomi si ritrova anche in questo Mi 10 Pro. Però diciamo che lo sforzo più importante è stato fatto per la fotocamera. Io adesso sono in modalità foto, avete, vedete, la possibilità di usare il grand'angolo oppure lo zoom che può arrivare fino a 30x, a 30x le foto insomma se non siete più che stabili è difficile utilizzarle. Avete la possibilità di gestire l'aiuto da casa dell'intelligenza artificiale oppure tutta una serie di effetti e di filtri che potete inserire e anche delle funzionalità accessorie che vi permettono ad esempio di concentrarvi su un soggetto mentre tutti gli altri si muovono. Qui vedete tutte le modalità, la modalità notte, la modalità 108 megapixel, ecco l'unica cosa della modalità da 108 megapixel, vedete, ultra HD attivo, se io adesso scatto una foto, diciamo che la memorizzazione non è sempre velocissima, dipende dal tipo di scatto che viene fatto. Quando uscite potete tornare poi alle svariate modalità tra cui vedete anche il fronte retro, quindi la possibilità di riprendere contemporaneamente con le due fotocamere e anche la modalità vlog che è molto carina, che è perfetta soprattutto per chi vuole fare ad esempio prodotti come TikTok, vi faccio vedere voi essenzialmente, adesso qui non succederà niente, però schiacciate quello che succede con la modalità vlog e vedete potete girare qualche secondo di videoclip, poi ne girate un altro, adesso facciamo in questo modo per farvi vedere poi il risultato finale, poi schiacciate di nuovo questa produzione che potrebbe essere quella quasi di Steven Spielberg, insomma quando siete arrivati in fondo al vostro videoclip vedete potete gestire questi effetti che vengono generati automaticamente dal telefono. Il risultato finale è quello che vedete qui con la produzione che viene montata automaticamente dal telefono, la modalità vlog devo dire che è una di quelle carine che possono essere utili per molti di voi, soprattutto con la passione per i social network, anche nei video caratteristiche importanti, 8k di ripresa, poi stabilizzazione delle immagini peraltro molto funzionali e poi una serie di effetti, di caratterizzazioni delle vostre riprese che sono molto interessanti e anche la possibilità di usare la modalità bokeh anche con i videoclip, poi come sempre accedendo al menu principale potete arrivare vedete a girare fino a 4k con 60 frame al secondo sempre che voi non scegliate invece la modalità 8k che invece viene diciamo scelta con questo comando superiore, mentre con questo menu vedete attivate a seconda della modalità in cui voi vi trovate le diverse opzioni disponibili, ora per la fotocamera ora invece per il video. Ecco, avete la possibilità di gestire veramente tantissime modalità, ovviamente la modalità ritratto, quindi davvero una fotocamera molto molto completa. qualche secondo da spendere invece sulla batteria da 5000 mAh per una ragione ben precisa, perché la batteria viene caricata con una sorta di sdoppiamento della carica, è come se la batteria fosse divisa a metà e quindi la carica da 33 W super veloce riesce a caricare molto più velocemente rispetto ad altri prodotti. E bisogna dire che io non ho provato il 5G, ma con 5000 mAh siete messi veramente molto molto bene. Una famiglia di prodotti molto interessante, anche se con un prezzo un po' più alto rispetto a 9T di un anno fa, però attenzione perché ci sono delle promozioni molto interessanti per voi che vedete il video in real time, addirittura comprando il modello più completo avete in regalo uno scooter. Date un occhio sul sito di Xiaomi. Ciao da Mr. Gadget! Grazie a tutti!